No ragazzuoli, no, io mi devo sfogare, mi devo sfogare di prima mattina, scusatemi, spero mi possiate perdonare, ma mi devo sfogare. Tra le altre cose, tra un'oretta e mezza ho un treno direzione Roma, dato che andrò a giocare la youtuber Summer Cup e, se avrete piacere, insomma, ci sarà la possibilità tra un pochino di giorni di vedere i video delle partite sul canale di Fede Marconi, ma non sono qui per parlare di questo. E' una piccola aggiunta, ma non sono qui per parlare di questo, ma appunto mi devo sfogare, perché voi non potete capire a quanto si è arrivato il mio odio nei confronti di quel campionato e in particolar modo di quella squadra nello specifico. E no, non mi sto riferendo alla Serie A e all'Inter, anche se non ci sarebbe nulla di sbagliato, anzi però, quantomeno in questa determinata circostanza, non mi riferisco a loro. Perché notizia di Gianluca Di Marzio? Sappiamo bene che il West Ham, da qualche settimana praticamente, sta portando avanti questa tiritera, visto il forte interesse nei confronti di Zaccaria. E appunto ieri sera il Gianlucone nazionale, dove per carità sulla notizia si può lasciare sempre un beneficio del dubbio grosso come una casa, perché sulla Juventus non è che ne stia prendendo tantissime, anzi, ha riportato che il club inglese ha offerto alla Juventus una roba come 13 milioni di euro, quindi 10-11 milioni di sterline per il cartellino di Denis Zaccaria. E io veramente sti qui li odio allo sfinimento, cioè non ho veramente altri giri di parole. Sti qui che solamente dalla Conference, come abbiamo visto, godo, grazie per aver battuto la Fiorentina, ma questo è un altro paio di maniche, si sono presi 20 milioni, solo ed esclusivamente dalla Conference, si sono presi 126 milioni freschi dall'Arsenal per il cartellino di Declan Rice, non è una cifra freschissima però per portare un banale esempio per quanto riguarda la stagione 2021-2022 solamente dai diritti televisivi, si sono presi 165 milioni di sterline, noi neanche sommando a momenti le prime tre squadre messe assieme arriviamo a quelle cifre, e sti qui ti offrono 13 milioni per il cartellino di Zaccaria. È vero, c'è sempre domanda e offerta, sappiamo benissimo come funziona quindi per l'amor di Dio, da un certo punto di vista si scherza anche, per carità, ma fino a una certa, perché veramente con tutto il bene del mondo, queste cifre qui sono delle prese per il culo, sono delle prese per il culo, sai che la Juventus, ma anche te inizialmente sembravi anche no disposto più o meno ad arrivare sulla ventina di milioni, se non è ventina di milioni più bonus e ventina di milioni bonus inclusi, 17-18 bonus inclusi, no, 13 milioni, voi mi volete veramente mandare nei matti, soprattutto quando ancora in questa sessione di calciomercato non hanno acquistato nessuno, hanno solamente venduto e appunto per 126 milioni di euro, non mi sembrano proprio una cifra banale, una ventina di milioni per Zaccaria che tutto sommato una merda non è, si potrebbero anche investire, ma è un altro paio di maniche, sti qui l'anno scorso 43 milioni di euro per pacchettà, che va bene, ci può anche stare, 36 milioni per Scamacca, 35 milioni per Agherd, Darren, 20 milioni per Cornet, 15 milioni per Emerson Palmieri, ne offrono 13 per Zaccaria, ma 15 milioni e mezzo per Emerson Palmieri, perché no, 12 milioni per Inks, 10 milioni per Flynn Downs, Dallas Wonsie e 13 per Zaccaria, voi mi volete veramente mandare nei matti, voi mi volete veramente portare ad odiarvi, mi volete portarmi ad odiarvi e ce la state facendo con una facilità che va al di là di ogni minima logica e veramente, veramente, ne abbiamo parlato in un qualche modo anche ieri, ho apprezzato tantissimo che magari non c'era la necessità di cedere Cambiaso, il Milan è interessato al vice Teornandez, 25 milioni, altrimenti non ci sediamo neanche, a posto, anche i costi qui deve essere la stessa cosa, purtroppo c'è una differenza, Cambiaso non hai l'interesse di cederlo, Zaccaria purtroppo sì, nel momento in cui tra le altre cose un pochino come altri pare verrà messo, non dico fuori rosa, ma magari si allenerà a parte, probabilmente non partirà nemmeno per la tournée americana, anzi, guardo adesso al volo cosa ha scritto Romeone perché ha fatto l'elenco di quelli che non partiranno per la tournée americana e Zaccaria non partirà per la tournée americana, quindi sicuramente purtroppo questo fatto di escludere già preventivamente i giocatori non ti mette proprio il coltello dalla parte del manico in ipotetiche trattative, evidentemente, questo per forza di cose, ma un piccolo sforzo lo potete anche fare, perché io posso capire una squadra di Serie A che con le pezze al culo, come un pochino tutte quante, tanto tanto, ma dalla Premier League certe cifre, che poi noi in particolar modo, dalla Premier League, siamo proprio bravi a prendere delle inculate che la metà sono più che sufficienti, quantomeno con la vecchia dirigenza, adesso vedremo con quella nuova, con quella vecchia, tutti in prestito con diritto di riscatto, obbligo con riscatto a determinate condizioni che puntualmente non si verificano mai, si convincono a riscattarne uno, però per favore fateci lo sconticino, perché cazzo non arriviamo a fine mese noi della Premier League, prendiamo solamente 170 milioni se ci va male dei diritti televisivi, pensa se giochiamo a qualche competizione europea e soprattutto vendiamo qualche giocatore nel mercato interno, tra le altre cose, e ti offrono 13 milioni per Zaccaria, io li detesto, li odio, li odio, li odio, perché non è che non li hanno e che lo fanno apposta, godono di questa, godono nel farsi odiare probabilmente e ci riescono pienamente, almeno spero che si arriverà ad una conclusione a titolo definitivo, a titolo definitivo, perché evidentemente è quello di cui hai bisogno ed è quello che evidentemente dovrai fare, ma piuttosto altrimenti veramente, sai che c'è, mi prendi per il culo, facciamo una bella roba, smettiamo di contrattare e Zaccaria probabilmente in un'altra situazione si trova, poi magari se in un futuro cambierai idea tornerai con un'offerta un pochino più consona, un pochino più congrua o che quantomeno sicuramente non è una presa per il culo, perché questa è una presa per il culo e neanche troppo di poco conto e nel momento in cui vedo giuntoli ben indirizzato da questo punto di vista per una serie di motivazioni e mi sta molto piacendo come si sta delineando questa nuova Juventus a livello dirigenziale, soprattutto a livello di idee e di concetti, ben venga eventualmente questa cosa qui, perché veramente, dai, mi ha presa per il culo, parli da settimane di certe cifre, no, 13 milioni, no, si smette, si smette e ci ripenseremo a tempo debito forse, altrimenti da un'altra parte, che poi tutto questo Zaccaria, tutto sommato per quelle che sono le idee di Allegri potrebbe tornare anche utile, quindi da un certo punto di vista mi sembra anche eccessiva questa esclusione momentanea, capisco che lo ritieni un esubero, però non è sicuramente i livelli di Arthur evidentemente a questo punto, anche di Bonucci e compagnia cantante. Però veramente, scusatemi, un piccolo sfogo, mi dovevo sfogare, ogni tanto ci sta tranquillamente, tanto non è nemmeno nei confronti della Juventus, ma nei confronti di chi cerca di fare determinati accordi con la Juventus e spero che la Juventus inizi ad avere i maroni girati non solo con le altre squadre italiane, non solo con qualche componente all'interno della Rosa della Juventus, ma con proprio anche tutti, in generale, basta, tocca tornare con i controcassi e con il pugno duro, bastardi della Premier. Ciao!